ecco questa devi immaginartela come la marcia trionfale di Will Smith che sale sul palco nella sua testa in slow motion qui risulta dopo lo schiaffo non so se dobbiamo ironizzare su queste cose il pubblico, qualcuno del pubblico non sarà d'accordo la violenza è sempre sbagliata ma la comicità sulla violenza è sempre giusta beh allora possiamo dire che Charlie Chaplin non voglio mettermi a paragone di Charlie però Charlie Chaplin si apre il culo di Hitler e di sicuro i suoi Oscar sono più meritati comunque parlavamo di Ciniforum oggi è una puntata delicata signori, quindi noi mettiamo le mani avanti subito, cercheremo di non fare gaff troppo eclatanti a proposito, adesso volevo fare in diretta, io so che non lo faccio mai di condividere la storia del Pertini Radio, perché noi ogni volta diciamo, siamo in diretta tra pochissimo e io puntualmente metto quel link dopo la diretta, quindi adesso lo metto adesso, guarda. Io faccio la fase alterna ci sono volte in cui mi ricordo prima, a volte in cui lo faccio dopo, a volte in cui lo faccio mentre sono in live perché il problema fondamentale per gli spettatori che non lo sanno è che qua dentro il mio cellulare non prende una fava e quindi praticamente io adesso ho cliccato non so se lo vedete, ma ho cliccato, ma lui continua a fare la rotellina di buffering ma non sta facendo niente e col cellulare no lo so, dovrei fare questa cosa ogni volta lo dico e tutte le volte signori, vabbè, ma basta con questi preamboli da... un po' deciltati ah, l'altra cosa che volevo dire prima di cominciare è che oggi ho la tazza e volevo far vedere questa cosa, non c'è più se c'è la regia può fare un primo piano su di me e la tazza è buono qui è buono qui è acqua naturale, sì, lo possiamo dire è acqua naturale se me lo dicevi prima portavo... eh, lo so, ho sbagliato attenzione, attenzione perché intanto si è svegliato quindi posso dare l'ok e farò la condivisione in diretta se me lo dicevi prima mi portavo la mia tazza o quella di Iron Man o quella di Evil ce l'ho pensato troppo tardi e ho detto sicuramente è uscito di caso comunque benvenuti in questa nuova puntata dove parleremo di un argomentino molto controverso eh, oggi parliamo di un tema toccante che è il ruolo, possiamo dire, il ruolo degli artisti nella società esatto, in questo caso, vabbè, facciamo un focus su Hollywood qui vedete un po' un episodio emblematico di questo argomento voi vedete, io non vedo niente perché c'è la controluce in effetti, Fabio ci confermi che si vede? si vede? regia? perché in effetti è effettivamente c'è un po' di controluce vabbè, comunque allora si vede bene la testa di Chris di Chris girata comunque è iconica magari se lo aspetta io provo a girarlo, aspetta oh no il bello della rigida ok, così l'immagine, quella lì a destra, si vede bene si vede molto bene vabbè, è quella più importante esatto vabbè, signori insomma, oggi parliamo un po' di questa cosa qua dai, oggi parliamo di questa e altre cose questa e altre sì, sì, il tema in generale perché soprattutto, devo dire lo noto soprattutto nei programmi americani intanto la mia storia è stata condivisa basta chiudo la faccenda sono venuto nei programmi americani perché io vedo spesso sono, diciamo un appassionato comunque mi piacciono molto i talk americani tipo Jimmy Fallon piuttosto che James Corden sono i miei due preferiti diciamo più James Corden che Jimmy Fallon anzi Jimmy Fallon lo guardo perché secondo me è bello il programma ma lui di James Corden secondo me è proprio simpatico e quando molto spesso loro hanno ospiti attori hollywoodiani quindi personaggi comunque famosi nell'ambito del cinema e ogni volta che vengono in trasmissione che vanno in trasmissione sono parlano ma non sono cioè non è che gli viene chiesto solo non so riguardo al cinema oppure si scherza e fanno qualche cosa a volte gli viene chiesto proprio domande di io li chiamo domande filosofiche cioè su come vivere la tua vita su quello che dovresti fare su quello che bisognerebbe fare come comportarsi eccetera e quindi sono visti al di là del loro ruolo di attore o attrice attore asterisco e quindi secondo me è un po' performance quindi anche i registi insomma tutte le persone che vanno là vanno lì in veste sì di artista ma poi in realtà parlano di tutta cioè di tutt'altro di cose anche della loro vita personale importanti vabbè quello che è quello ci può stare il gossip le tue passioni eccetera però quello che che noto è che c'è proprio una un'attenzione come tipo guide non so come dice vengono viste come delle guide degli idoli degli idoli esatto sì sì sono gli idoli una volta c'erano gli idoli greci adesso a quanto meno in America ci sono questi qua poi magari secondo me in Italia anche i cantanti secondo me vanno molto come figure non so se la regia conferma cioè anche dei giovani soprattutto nei giovani sì assolutamente cioè quello che dice non so Blanco gli occhi di un ragazzo di 16 anni è molto molto più importante di quello che dice sua madre i cosiddetti fanboy fanboy si chiamano non so sì quelli diciamo i fan svegatati esatto i fan svegatati i ragazzini che oppure io ho in mente questa cosa ce l'ho in mente con Vasco perché Vasco ha il suo Vasco ha il suo come dire il suo club tutti ce l'hanno in realtà però mi viene in mente quello di Vasco perché vabbè non cantate che ascolto e il suo fan club che lo segue qualunque cosa lui dica qualunque cosa lui faccia però mi sembra che sia per quella parte lì un po' diciamo limitata quella nicchia dopodiché la maggior parte delle persone ascolta Vasco per le canzoni non è che ascolta Vasco perché Vasco gli deve dire come vivere la loro vita invece in altre situazioni secondo me questa cosa si espande molto di più quindi quello che vedo anche in America è che questa cosa è molto più enfatizzata non so se tu sì sì no c'è proprio un culto della personalità ma tra l'altro che esplode cioè negli ultimi anni si è proprio fomentato ma esiste un po' da un sacco di tempo soprattutto nel cinema e nel cinema forse è l'arte in cui è nato prima questo culto dell'artista soprattutto degli attori in particolare perché in passato si tendeva magari a esaltare la figura del regista dello sceneggiatura dello sceneggiatore mentre l'attore era un po' un operario se vogliamo mentre invece poi a un certo punto Hollywood è iniziato a spingere proprio sugli attori su quelli che appaiono a schermo poi con gli Oscar con tutti i reality show i late show dove vengono chiamati come ospiti dove fanno varie gag interagiscono tra loro e poi anche il gossip eccetera insomma si è proprio creato un vero e proprio culto intorno a queste persone di cui ormai sei vita morte miracoli che poi ti dico anche pensandoci adesso forse da parte musicale per quanto riguarda diciamo la parte adesso non dico internazionale però mi ricordo presente lo so sai quando c'erano le rock band che c'erano lì veramente non so i Beatles più famosi di Gesù si diceva erano idolatrati cioè veramente lì secondo me però non riesco non ne avendolo vissuto forse non avendo letto abbastanza non riesco a capire se è una cosa legata unicamente alle canzoni e alle performance che fanno o se adesso a parte John Lennon che secondo me lui aveva davvero un seguito a prescindere dalla questione musicale no cioè c'era proprio una questione ideologica di contenuto però anche lì è nata dopo è nata dopo però lui ce l'aveva non so se gli altri gli altri gruppi o gli altri gli altri cantanti avessero un seguito da quel punto di vista perché io il seguito dal punto di vista dell'artista di quello che fa delle canzoni che fa secondo me è sacrosanto che ci sia fa quello se è una cosa che mi risuona va bene però quando si va oltre non è che non si deve fare però insomma ci andrà in cauto tu hai citato John Lennon secondo me è un esempio molto calzante perché poi John Lennon ovviamente come sappiamo è stato ammazzato da uno dei suoi fan deluso dal fatto che avesse un'ideologia così diciamo troppo di sinistra per i suoi standard e quindi si è proprio creato il culto che si crea dietro anche a molte figure politiche molte figure di potere anche Jim Morrison pensare che comunque quando è stato assassinato anni 80 John Lennon te lo dico subito aspetta perché se non sbaglio comunque in quegli anni c'è stato l'assassinio di John Lennon e l'attentato a Ronald Reagan per dire che poi non è morto però comunque cioè è paradossale che in pochi anni ci siano stati degli eventi così eclatanti da una parte abbiamo un politico tra l'altro presidente degli Stati Uniti che già puoi capire di più il motivo per cui uno si possa così tanto fomentare verso la sua figura e poi dall'altro abbiamo John Lennon che era un cantante ok con delle sue posizioni politiche e sicuramente anche forti ma non guidava un partito non smuoveva particolarmente le masse semplicemente diceva la sua però questo fan che l'ha ammazzato di fatto è uno di quelli che si erano proprio come dire calati in questa ossessione per il suo artista il suo artista preferito che quando ha iniziato a fare canzoni di pacifismo canzoni di uguaglianza eccetera non c'è stato più quella testa e se l'è presa con lui allora lui l'hanno ucciso nell'ottanta John Lennon stavo guardando Jim Morrison che anche lui è stato secondo me assassinato ma non vorrei dire una stupidaggine quindi non la dirò comunque sì anche Ronald Reagan adesso non ricordo l'anno esatto però durante la sua presidenza quindi comunque è stato assassinato non assassinato hanno fatto un attentato che poi anche lì il motivo per l'attentato era anche più diciamo superficiale futile perché poi il tipo che ha attentato alla vita di Ronald Reagan in realtà lo faceva per cercare di conquistare un'attrice di cui si era innamorato Jane Foster per Taxi Driver e siccome lei se non sbaglio andava contro Reagan allora lui per fare colpo su di lei ha attentato la vita di Reagan poi fallendo però e poi diciamo che non è esattamente funzionata no esatto sì comunque sì c'è un po' questa cosa secondo me in Italia più che secondo me un po' in tutto il mondo c'è questa tendenza a prendere a riferimento poi sia il musicista il cantante il politico l'attore c'è la tendenza delle masse ora sto un po' generalizzando però c'è una tendenza una certa fetta di popolazione a affidarsi alle parole di quindi quello che viene detto quando poi in realtà l'altra persona cioè a volte insomma ci sono persone che comunque essendo persone possono dire anche delle castronerie anche se sei non so Einstein oppure Socrate o non so che cosa però a prescindere da quello ci sono le persone che secondo me possono avere possono dare un'opinione che può farti riflettere eccetera però in primis dovresti essere tu avere un attimo di raziocinio e cercare di ragionare un po' con la tua testa senza pendere dalle labbra di qualche personaggio di turno anche perché l'altra persona poi i personaggi di turno poi magari fanno delle uscite perché essendo uomini falliscono come uomini se no sarebbero tutti degli dèi e poi ci si infervora o ci si prendono delle posizioni che ah questa cosa non doveva essere fatta perché lui è lui è un uomo se tu che magari l'hai un po' eccessivamente messo sul piedistallo tu e tutti i media che su questa cosa poi ci marciano nel senso che al fine su attori hollywoodiani vanno avanti puntate e puntate di televisione stiamo parlando comunque di soldi e di persone che diciamo di persone che lavorano facendo producendo dei programmi grazie anche al fatto che hanno come ospiti queste persone qua che portano a loro volta spettatori sì sì poi c'è da dire che appunto il culto diciamo della personalità della celebrità è qualcosa che ovviamente smuove denaro quindi è sempre conveniente alimentarlo per appunto i programmi televisivi ma anche le case di produzione banalmente nel momento in cui c'è il film il film evento che ti mette l'attore premio Oscar e ti sbatte il suo faccione sogno e locandina capisci che lì c'è anche quel discorso perché non stai più promuovendo tanto il film in sé ma stai promuovendo il film con tale attore è così non so io posso dare posso fare una come si dice un appello sì un appello è ragionate con la vostra testa ok possiamo chiudere la puntata ciao ciao è stato bello è la puntata più breve è la storia di Cineform è che con tutti i minuti che abbiamo accumulato extra che ci siamo dati oltre l'ora sì dovremmo fare un minuto di puntata per recuperare e non basterebbe ma non lo faremo non lo faremo per i nostri spettatori non li deluderemo allora torniamo su Will Smith perché poi questo discorso ha anche senso in virtù di quello che è successo perché secondo me è interessante analizzare non tanto l'evento in sé perché vabbè si può tranquillamente ormai affermare che non era una messa in scena era tutto sì per quanto anche noi in diretta abbiamo avuto molte perplessità sì sì c'è stata titubanza però ma anche in ho letto che anche lì in teatro hanno avuto perplessità perché si sono resi conto solamente perché è stata una cosa talmente surreale che si sono resi conto che effettivamente era ve cioè non era preparata quando Will Smith è tornato a posto e ha iniziato a insultare Rock quindi anche lì di per sé e anche quelli che erano in regia ho letto chi stava in regia in cabina di regia che faceva a un certo punto gli hanno tolto l'audio anche loro si sono hanno detto no qua c'è qualcosa che non va quando Chris Rock ha detto porca miseria Will mi ha schiaffeggiato alla grande tipo di cose del genere allora lì si sono resi conto che effettivamente non era preparato anche perché sul gobbo la battuta sulla moglie di Will Smith non c'era quindi non era preparata quindi evidentemente è una cosa che si era improvvisata Chris Rock in quel momento perché tra l'altro si conoscono sia con Will Smith che con la moglie che non mi ricordo mai come si chiama vabbè non importa quindi sì cosa sa Giada Pinkett Smith si è un nome che è troppo strano non mi ricordo se è Giada il nome vabbè comunque parlando appunto della vicenda secondo me il discorso più interessante da guardare è proprio la reazione che ha avuto il pubblico sia vabbè le persone alla serata degli Oscar ma lì ovvio che il dubbio sul momento ti viene perché è una roba troppo assurda però dopo che passano ore dopo che ci sono mille dichiarazioni diverse dopo che Will Smith non si scusa e Chris Rock dice sì non voglio denunciarlo però comunque è successo davvero e tutto il casino che è successo direi che è abbastanza assurdo ancora avere il dubbio o sostenere che fosse tutto preparato considerando che di recente è stato comunicato che Will Smith è stato bandito dagli Oscar per dieci anni allora io ho letto che lui si è ritirato poi stai a vedere se l'hanno prima si è ritirato lui poi successivamente l'academy ha confermato sostenendo che poi la sospensione sarà dieci anni ok ma allora ho letto perché poi su internet specialmente la cosa con sostenere eventi di questo tipo ognuno deve dire giustamente ognuno deve dire la sua senza dire giustamente non so se è giusto a certi momenti dire ognuno la sua però succede insomma internet ha questo potere di dare la parola a tutti e ho letto svariate cose ho letto perché c'è la parte diciamo più come si dice girl power che diceva ah ma è assurdo che nel 2022 le donne devono ancora no perché questa qua in realtà è stata anche una reazione nei confronti di quelli che hanno commentato ah finalmente ci sono ancora uomini che difendono questo è contro il girl power sì esatto per reazione le girl powers hanno detto è assurdo che nel 2022 ci sia ancora questo retaggio della donna che deve essere protetta dall'uomo e quando la moglie di smith che ovviamente dicono moglie di smith perché non ricordo mai il nome ma prima della fine della puntata ce la farò è quello che diceva prima jaco già da come la posso chiamare giada 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 quindi stai dicendo stai dicendo le donne il girl power il girl power dice è assurdo che giada che è una persona che comunque parla di questa sua malattia che è l'alopecia per la quale sta perdendo i capelli per la quale si è rasata ne parla su instagram è una donna attiva insomma non è una una donna come dire alla stregua del suo uomo è assurdo che nel 2022 debba avere ancora un uomo che la debba difendere quando sa benissimo difendersi da solo questo era il concetto questi due polli che si combattevano non so tu cosa pensi personalmente questo è un discorso che comunque condivido la figura dell'uomo forte che deve proteggere la sua donna a me personalmente è sempre stato un po' sulle scatole per essere gentili ma banalmente perché il concetto della donna che deve vivere in virtù del proprio uomo che la difende è proprio sminuente nei confronti della donna a parte secondo me anche nei confronti dell'uomo perché la donna si riduce alla povera donzella che deve essere difesa e la sua vita deve essere dedicata a venerare l'uomo che la protegge un po' il concetto Disney dall'altra l'uomo invece deve basare la sua intera vita sul trovare qualcuno da proteggere sul sacrificarsi per gli altri sul essere appunto colui che si prende carico dei problemi di tutti sì oppure ancora peggio doversi realizzare solo facendo questa cosa qua quando in realtà tu ti realizzi a prescindere dal fatto che ci sia qualcuno a difendere cioè invece immolarti per la patria comporta una tua realizzazione personale senza la quale la tua vita ai tuoi occhi sarebbe inutile cioè è un modo per te per dire a valgo qualcosa questo forse è un po' il retro pensiero che passa in questa situazione che in effetti non è un gran che sano secondo me sì poi tutti i discorsi che la gente fa ah finalmente c'è Will Smith che è un uomo forte c'è gente anche che commentava dicendo ah in questo periodo in cui tutti sono delle delle mammolette c'è finalmente qualcuno come Will Smith esatto sì 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 ho notato è questo il tipo di reazioni che io non capisco oltre quelli che appunto idolatrando Will Smith cercano mille modi stupidi per per giustificarlo era tutto preparato oppure va bene ma non è nulla di così grave stiamo parlando di uno schiaffo dato in mondo visione cioè che stiamo parlando tra l'altro cioè contestualizziamo la cosa cioè Will Smith che viene invitato agli Oscar dall'Academy lì si ritrova Chris Rock che anche lui è stato invitato all'Academy per fare quel tipo di comicità perché lui è quel tipo di comico che ci piaccia o no che Chris Rock fa comicità prendendo in giro il suo pubblico e l'Academy l'ha invitata apposta si mette a fare una battuta sulla moglie di Will Smith lei è legittimata a stizzirsi non deve per forza ridere nessuno la dice che doveva ridere semplicemente non può permettersi Will Smith di alzarsi in mondo visione visto da milioni di persone in tutto il mondo a tirare uno schiaffo a Chris Rock perché a parte farci una figuraccia a lui perché poi passa dalla parte del torto in secondo luogo Chris Rock sta facendo il suo lavoro in terzo luogo stai facendo fare una figuraccia che potrebbe adesso non so se in materia di costi economici ci sia stato chissà che contraccolpo ma comunque danneggia l'immagine dell'Academy danneggia l'immagine degli Oscar danneggia banalmente il ricordo che molti spettatori possono aver avuto di quella serata per una battuta allora è un discorso è dire che veramente abbiamo scelto una materia proprio difficile oggi no l'altra cosa che stavo pensando è anche la come dire l'altro tema è fino a dove ti puoi spingere a far battute perché da un lato si potrebbe una persona potrebbe anche dire ah però ha fatto una battuta su una malattia la persona potrebbe autoironizzare sulla propria malattia senza però non è costretta a farlo quindi se lei per caso non voleva ridere sti gazzi e quindi però dall'altro lato quindi la domanda potrebbe essere ma Chris Rock ma poteva cioè se la poteva evitare una battuta così? poteva evitarsela il fatto però è che non era costretto a farlo e anzi in realtà era quasi il suo compito fare quel tipo di battuta perché alla fine appunto come detto lui è stato chiamato lì apposta lui è quel tipo di comico è quel tipo di comico che tu paghi il biglietto per andare a vederlo e farti insultare perché è quel tipo di comicità che fa lui il contesto dei comici come Chris Rock appunto è si basa su questa sorta di patto non detto tra lo spettatore e il comico dove io ti pago il biglietto e vengo a vedere lo spettacolo quindi tu sei legittimato a prendermi in giro come quanto vuoi però in questo caso in questo caso non è proprio uguale cioè non è che le persone hanno detto ah che figata abbiamo Chris Rock così almeno possiamo farci insultare no però comunque la scaletta degli ospiti ovviamente tutti i più ospiti degli Oscar ce l'hanno sapevano che c'era Chris Rock vai quando c'è Chris Rock sì nel senso questo no non lo vedo fattibile il discorso è che l'academy può invitare chi vuole a fare quello che vuole se tu non ci tieni ad essere preso in giro da Chris Rock o te ne vai giustamente perché nessuno ti può dire nulla semplicemente puoi anche banalmente fare degli accordi con la regia non inquadratemi mentre me ne sto andando perché sennò faccio una brutta figura adesso non so tutti i retroscena comunque il discorso è che nessuno costringeva né Will Smith né sua moglie a stare lì a farsi prendere in giro e comunque sapendo che c'era Chris Rock dovevano aspettarselo perché lui fa quello non puoi non puoi pretendere di stare a guardare la performance di un comico che basa la sua carriera sul prendere in giro il pubblico e pretendere che tu non venga preso di mira su questo ho inutro forti dubbi sul fatto che Will Smith cioè la cosa che mi ha mi ha un po' stupito è il fatto che Will Smith secondo me Will Smith è proprio presso la brocca raga io sono convinto che molti di questi personaggi insomma attori o così hanno qualche qualche cosa che non va ma hanno qualcosa che non va come persone cioè secondo me hanno proprio dei problemi quindi magari vanno anche in terapia cioè perché è così la società al giorno d'oggi porta le persone a ritrovarsi insomma a essere cresciuti magari in un contesto che per quanto per quanto possa essere magari anche benestante nel senso che Will Smith magari mancano i soldi però ci sono delle delle dinamiche che prescindono dal fatto che hai soldi oppure no cioè se tuo padre è uno stronzo non è che se hai soldi oppure no non è quel punto cioè se stronzo è stronzo e quindi tu vivi male quindi magari ti porti dietro una serie di problemi non risolti che poi sfociano in situazioni così con si adesso mi alzo prendo e tiro una sberla a quello là che se ci pensiamo a mente fredda cioè è impensabile cioè tu non penseresti mai che una persona in mondo visione si alza e alza dalla sedia va lì e tira una centra a chi c'è di turno sul palco quindi secondo me è è importante cioè secondo me è l'occasione per vedere la realtà perché una cosa che che ho pensato è che in effetti essendo live tu sei riuscito cioè è venuta fuori questo aspetto se fosse stato registrato tutto questo non ci sarebbe stato cioè tu non avresti tu avresti continuato a pensare che magari avresti visto solo hai sentito solo il discorso della di quando lui va a prendere l'oscar che sono sempre discorsi voglio dire super belli insomma di belle parole eccetera ma che poi magari sono scritti prima cioè non è che spontaneo quindi la persona viene fuori molto spesso nella spontaneità dopodiché tutto il resto tant'è che anche in molte molte situazioni si cerca l'improvvisazione perché perché nell'improvvisazione tu è il momento in cui sei spontaneo quindi escono delle cose che non hai premeditato e che possono essere positive in questo caso direi che positive non lo sono state l'improvvisazione richiede anche che comunque tu sia lucido nel momento in cui ti fai prendere completamente dalla rabbia qui è proprio lui è proprio ma secondo me è importante che le persone vedano questa cosa e come è successo a Will Smith che non lo sto giustificando cioè non sto dicendo che ha fatto bene però gli è successo perché come uomo avrà i suoi problemi e non li ha saputi gestire in questa situazione e quindi ha sbroccato giustissimo anche perché ricordiamolo gli attori le celebrità magari a qualcuno sembra strano ma sono esseri umani sono esseri umani sì ma questa è la cosa che vorrei che vorrei che passasse oggi cioè che tutte le persone tutti gli artisti sono esseri umani quindi in quanto umani fallibili e quindi non ha senso prenderli come idoli come dei perché non è che sono perfetti o quello che dicono è sempre corretto cioè anche premi Nobel che dicono tantissime cose giuste e poi sparano una minchiata cioè non voglio dire che mi viene un esempio mi viene un esempio Feynman che è un fisico famosissimo di cui io sono grande stimatore adesso non è morto non c'è più però lui ha contribuito alla costruzione della bomba atomica quando è stato prima diciamo nella seconda ora mondiale se non mi ricordo l'età precisa e nonostante lui io ho letto un suo libro scondivido praticamente il 90% delle cose che ho letto però se penso che questo uomo qua ha contribuito a costruire una roba come la bomba atomica dico vabbè però scusate cioè qua forse una domanda etica se la poteva fare cosa che non si fa poi dobbiamo aprire un altro discorso perché nella scienza l'eticità non è presa diciamo non è considerata nel senso che tu continui a lavorare per la scienza per la ricerca a prescindere dalla finalità di quello che tu stai ricercando quindi poi quello che tu stai cercando può essere usato bene o male se a te non ti interessa l'importante è fare il cerchio quindi ci sarebbe una ti dico che vabbè per quanto riguarda il progetto Manhattan esatto la costruzione della bomba atomica dal punto di vista degli scienziati è molto complesso è molto diciamo controverso tutto il discorso non è non è così semplice fare un discorso etico secondo me no 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 infatti tant'è che Majorana però per esempio Majorana che è sparito poi al contrario di Fermi che si è andato in America per lavorare sul nucleare Majorana ha detto no io non ci sto perché sta cosa qua è troppo pericolosa poi non sto dicendo che è giusto o sbagliato sto semplicemente dicendo che non è detto che le persone che tu pensi e ammiri per determinate cose poi dicano sempre la verità o la cosa giusta o la cosa che più ti è in linea con te stesso su qualcosa si può anche essere magari non d'accordo oppure può effettivamente dire una castroneria o fare una castroneria come in questo caso poi pensa vabbè aggiungo questa piccola curiosità poi torniamo sul discorso pensa che addirittura c'era Heisenberg il famoso fisico tedesco che contribuì al progetto della bomba atomica nazista ma perché nella sua testa lui voleva stare all'interno del progetto in qualche modo per o sabotarlo o per far cambiare idea poi in realtà comunque ha contribuito è tutto molto complesso ma anche per dire Feynman era giovanissimo quando quando ha iniziato a lavorare al progetto quindi c'è o magari delle robe non le sapeva insomma ci sono una serie di però anche anche se cioè a posteriori non ho mai sentito dire effettivamente minchia abbiamo fatto una roba che poi è finita come è finita potevamo evitarcelo cioè non lo so oppure potevamo farci le domande cioè non ha mai posto questa queste queste perplessità e mi viene in mente lui ma come mi vengono in mente per dire un altro che mi nel tema scienza Nobel per per la chimica italiano che ha inventato i polimeri la plastica ha inventato i polimeri che ora sono uno dei problemi più grossi insieme ai cambiamenti climatici vabbè ma quello non è direttamente sua responsabilità cioè ha creato un nuovo materiale poi se poi c'è stato un uso sbagliato non è sua responsabilità no è per è per collegarne il fatto che quando tu lavori per determinate cose non ti poni il problema no ah ok lui l'ha detto ah figata l'hanno premiato hai fatto una figata adesso siamo messi malissimo vabbè ma banalmente la bomba atomica nasce poi giuro che torniamo il discorso cinema no no l'ultima la bomba atomica nasce in realtà da iniziali ricerche su un modo per sviluppare un nuovo tipo di energia o comunque sfruttare nuovi strumenti per indagare sulla materia poi sfortunatamente ci si è reso conto che quella quell'energia e quel tipo di manipolazione della materia potrebbe essere usato anche per bombe ecco quindi è sempre molto sfumata la questione ma chiudiamo il discorso scienza per ritornare torniamo io farei un altro esempio Johnny Depp potrebbe sì ma volevi fare un altro che volevi fare quello di Kevin Spacey che altro perché vabbè è molto interessante il discorso di Kevin Spacey perché c'è un discorso ambivalente se vogliamo perché per chi non lo sapesse Kevin Spacey nel periodo delle denunce a Weinstein eccetera venne accusato da un attore se non sbaglio Anthony Rapp che riguarda una molestia che avrebbe ricevuto a 14 anni da un allora ventenne Kevin Spacey Kevin Spacey poi venne cioè fece coming out come bisessuale a seguito di quell'evento e si scusò per l'accaduto disse addirittura di non ricordarselo perché quel giorno era ubriaco e diciamo chiuse un po' lì la questione poi arrivarono successivamente altre denunce di molestie da altri set di film eccetera però è interessante guardare la questione nel periodo in cui c'era soltanto la denuncia di rap perché lì si spaccò proprio in due l'universo tra chi difendeva spada tratta Kevin Spacey sostenendo che volendo legittimamente più o meno fossero passati molti anni che vabbè dice di non ricordarselo quindi non è neanche certo che fosse successo eccetera e chi invece se la prendeva molto con l'attore proprio condannandolo in maniera forte diciamo a spada tratta e c'è stato per un periodo questa ambivalenza e non si è mai riuscito a stare a stare su una posizione diciamo centrale cioè non lo sappiamo potrebbe essere successo Kevin Spacey non è un santo solo perché è un grande attore vabbè questo è il messaggio questo è esattamente il bias si chiama bias cognitivo forse è la prima volta che uso bias cognitivo correttamente è la prima volta in assoluto questo è il bias cognitivo cioè pensare che siccome sono attore allora sono persone bravissime bannifiche stupende senza difetti senza una macchia sulla cioè non è così ragazzi mettiamocelo in testa per una volta per tutte per favore poi vabbè sulla questione Kevin Spacey Anthony Rap dici sì esatto sulla questione Kevin Spacey sono venute fuori anche altre denunce alcune ritirate altre decadute però comunque è ancora diciamo abbastanza controversa la sua figura ancora non si sa nulla su cosa sia effettivamente successo in queste poi c'è da dire che lui ha ammesso comunque quello che ha fatto a Anthony Rap se ne è scusato dice di non ricordarselo ma penso che qualcosa nella sua testa sia rimasto per ammettere di averlo fatto e chiedere scusa quindi poi sicuramente lo si può lodare per per aver chiesto scusa per non aver cercato di sabbiare ma qua dice made a sexual advance toward Anthony Rap che aveva 14 anni al tempo ma sexual advance cosa vuol dire gli ha fatto le proposte allora sì advance sessuali ma in realtà quanto ho capito è stato molto spinto nel senso che si avvicinava a lui ha tentato anche di baciarlo l'ha tipo sdraiato sul letto adesso ha fatto delle cose un po' mi pare poi non sono esatto non sono sicuro però non era semplicemente lui che gli diceva cose porche no vabbè sai vorrei fare delle cose mi piaci tanto cioè tu avevi citato invece Johnny Depp Johnny Depp e Amber perché in realtà sì Cammy Spacey in realtà tutti questi personaggi hanno un po' questa questa storia queste dinamiche di base che li accomunano questo Phil Rouge che li accomuna tutti e Johnny Depp invece è recentissimo perché in questi giorni sono in tribunale con la moglie credo che siano sposati sì sì ex moglie ormai ormai ex moglie adesso è proprio iniziato il processo dovrebbe durare sette settimane in totale se non sbaglio questa è già passata la prima e lui ha fatto uno statement ha fatto una dichiarazione in tribunale in cui dice la prima dichiarazione in tribunale in cui dichiarava che non ha mai assolutamente toccato in maniera violenta Amber si chiama giusto? sì Amber ah la nostra Amber insomma ha fatto queste prime dichiarazioni e anche lì cioè io andrei coi piedi di piombo perché istintivamente come dicevo prima fuori onda secondo me c'è una tendenza a schierarsi dalla parte femminile che è vista nel luogo comune come la parte più debole non sto dicendo che per carità cerchiamo di capire quello che sto dicendo non sto dicendo che è giusto una cosa o giusto o un'altra siccome non sappiamo lo stereotipo di genere però è un po' quello nella mia anche nella mia testa se istintivamente parto così poi mi correggo e dico no però aspetta cioè non so come sono andati i fatti perché oggettivamente è vero che insomma dal punto di vista fisico probabilmente a meno che l'altra è una lottatrice di karate super professionista e dall'altra parte ci sono io allora lei mi potrebbe stendere ma altrimenti ovviamente la prestanza fisica dell'uomo può essere mediamente però il punto è che in determinate situazioni non si sa in effetti cioè noi che siamo da questa parte del mondo anche chi non è cioè è difficile già per gli avvocati o comunque per il giudice capire cosa è successo ancora più difficile per noi a meno che non ci sono prove di non so foto filmati cioè non c'è qualcosa che può essere poi raccolto e può essere dichiarato come prova effettivamente che è successo però anche lì sono cose parziali però anche lì sono cose parziali quindi è tutto molto delicato secondo me e anche in questo caso quando io ho sentito questa storia di Johnny Depp e Amber la prima cosa il primo messaggio che secondo me passa in maniera superficiale perché poi se vai a leggere magari e ti interessi poi magari l'articolo dice che non si sa perché però in generale mi sembra che il messaggio dei media sia comunque che metta tendenzialmente in cattiva luce Johnny Depp in questo caso non sapendo comunque come sono andati fatti ancora ti dirò dipende in realtà anche da due guardi nel senso chi ti dice la notizia chi ne parla perché tu citavi prima prove e in effetti a un certo punto sono saltate fuori queste registrazioni audio di una seduta da una psicologa tra Johnny Depp e Amber Heard dove che c'erano tutti e tre quindi la psicologa e loro due esatto e c'è Amber Heard che inizia a dire robe a Johnny Depp sul fatto che si è lei che l'ha picchiato in una determinata in un determinato episodio però secondo te chi vanno a credere se lo vai a dire in giro a me o a te che sei un uomo e quindi sostanzialmente in questo audio ammetteva di aver appunto di essere stata violenta con lui di essere stata violenta contro di lui addirittura lanciando stoviglie se non sbaglio infatti questo è la prima cosa il primo immaginario che mi viene in mente è lei che gli lancia le robe e se non sbaglio esatto e lei se non sbaglio che gli diceva anche se vai a dirlo in giro non ti crederanno e penseranno che sei un mezzuomo o robe del genere che sono sicuramente delle delle registrazioni delle prove non dico schiaccianti però comunque forti a favore di Johnny Depp c'è da dire che però è una registrazione che testimonia un episodio ma poi soprattutto loro hanno registrato o lui era registrato di nascosto no credo sia la registrazione che faceva la psicologa per poi riascoltarsela e capire un po' il profilo dei suoi clienti e poi non so quanto legittimamente questa psicologa ha divulgato le registrazioni però a quanto pare le registrazioni sono vere sono uscite e credo possano essere usate senza problemi come prove adesso non so tutto il retroscena di quelle registrazioni comunque come detto testimoniano un episodio non è detto che Johnny Depp non abbia colpe perché poi il processo è lui che come dire denuncia per diffamazione Amber Heard che l'ha accusato di averla di averla molestata di averla picchiata e la teoria si parla di teoria poi non c'è nulla diffondato più diciamo accreditata è quella che in realtà fossero entrambi violenti verso l'un l'altro quindi diciamo che è difficile è difficile capire cosa è successo è difficile proprio schierarsi cioè non ha neanche senso non ha neanche senso schierarsi perché poi ogni cosa è presa veramente per cioè ti devi schierare da una parte o dall'altra cioè io ho detto quella cosa all'inizio perché quando è uscita la notizia cioè poi successivamente poi magari sono uscite altre prove altre non so altre cose sono successe però inizialmente quando esce la notizia non so se è una mia impressione però inizialmente sembra che l'attenzione è spostata sul maschile che poi effettivamente è così nel senso che Kevin Spacey e altri altri personaggi tipo Harvey come si chiama Harvey Weinstein cioè poi succedono veramente le cose però probabilmente proprio perché succedono così tanto nel momento in cui esce la notizia del genere automaticamente il messaggio dei media un po' è spostato verso nell'accusare Johnny poi non è così allora c'è sicuramente una tendenza appunto per quel pregiudizio che hai sposto te prima nel andare contro Johnny Depp a accusarlo ma tra l'altro ti dirò c'è stato pure un altro processo contro questa testata giornalistica questo magazine in realtà è un po' la novella 2000 inglese che si chiama Il Sun che è un po' un giornaletto dove in un articolo definivano Johnny Depp come picchiatore di mogli wife beater in inglese poi c'è tutta questa cosa lui ha denunciato Il Sun per diffamazione solo che poi ha perso la causa ma non perché Il Sun avesse ragione più che altro perché secondo le leggi britanniche per dimostrare che una persona per accusare condannare una persona per diffamazione tu accusatore devi dimostrare che quello che stai dicendo è incontrovertibilmente falso ma se non si sa la verità che non si sa perché sennò avrebbero già finito questo processo immagino uno un giornale un magazine può sostanzialmente sostenere quello che vuole se porta delle prove abbastanza diciamo convincenti che possa effettivamente essere successo poi ci sono tutte queste dinamiche tra l'altro dei media che non è che stanno lì a guardare a farsi troppi scrupoli se devono vendere le copie del Sun scrivendo sta roba le vendono di più e non rischiano troppo lo fanno cioè ci sono anche poi tutte queste dinamiche però il problema è che secondo me tutte queste dinamiche si ripercuotono poi sulla società nel senso che il Sun può fare una roba del genere ma poi nella società si ripercuote perché si creano questi bias che non sono il massimo cioè poi in più ora che siamo con questi soci in cui tu devi per forza cioè sei portato o comunque le persone sono sempre più portate a schierarsi o da una parte o dall'altra tipo squadra di calcio è un po' non è non è una situazione bellissima secondo me sì poi comunque con la vicenda delle registrazioni si è iniziata a spaccare un po' l'opinione perché diciamo la maggior parte delle persone ancora considera Johnny Depp come il picchiatore c'è per una anche una grossa fetta diciamo che è anche facile identificarle a livello di schieramento politico se vogliamo poi non entriamo in argomenti troppo spinosi però interessante quindi diciamo politico americano schieramento politico americano cioè democratici e repubblicani nel senso no più che altro destra sinistra nel senso chi sta più a sinistra tende a magari condannare di più Johnny Depp chi sta più a destra tende a condannare di più Hanbird parlando di chi proprio si accanisce chi considera uno assolutamente colpevole l'altro assolutamente innocente questo si intende tra gli estremisti ecco c'è secondo me anche da un lato una connotazione diciamo legata appunto alle battaglie femministe e sociali che tendono magari a difendere di più la donna dall'altra invece la parte un po' più conservatrice un po' più tradizionalista che invece tende a vedere l'uomo come la vittima perché la donna in questo caso ne sta approfittando non lo so che discorsi sai che si sente un po' in certi ambienti estremi di adesso il discorso diciamo del delle donne che magari denunciano violenza abusi che se lo sono inventato o che hanno esagerato per prendere magari i soldi piuttosto che no è successo sì sì esatto e diciamo che è anche un po' questo che anima un po' la discussione sull'accadimento se l'uomo ha parecchi soldi e tu gli fai causa e gliene tiri via un bel po' anche se è detta una bugia però potrebbe essere diciamo il tuo fine principale argomento delicato poi specialmente in questo periodo in cui i movimenti femminili stanno si stanno facendo sentire adesso non so se come nel 68 però ci sono ci si sentono parecchio quindi secondo me arrivano non dico sembra tipo la tempesta perfetta però arrivano in un momento un po' insomma su un tema caldo su un tema molto caldo e poi tra l'altro Johnny Depp ha tutta questa situazione ha anche perso dei ruoli nel cinema vabbè attualmente non ha film all'attivo aveva il ruolo di Grindelwald nella saga di animali fantastici ma l'hanno sostanzialmente licenziato per via della perdita alla causa contro il Sun e è stato sostituito da Mads Mikkelsen mentre invece Amber Heard non ha ancora subito nulla ma più che altro perché come detto la maggior parte delle persone comunque tende a vedere Johnny Depp come il colpevole principale in secondo luogo Johnny Depp ha la sfiga di aver perso la causa con Sun quindi quella per molti è anche una prova del fatto che in realtà effettivamente sia stato lui che poi tutto gira attorno alla come dire a come ricade sull'immagine della produzione piuttosto che perché poi nei fatti al momento ancora nessuno è condannato cioè a prescindere dal fatto che la verità giudiziaria poi non è la verità reale però è quella diciamo però diciamo che è quella che si prende perché sennò vivremmo nell'anarchia più totale e quindi si considera quella ma al momento non c'è neanche quella quindi poi anche qua si apre un po' il tema del appunto la casa di produzione o comunque il tuo comportamento viene cioè si ripercuote vuoi o non vuoi sulla tua vita lavorativa e qui ti faccio due esempi di due persone molto diverse diciamo da una parte abbiamo James Gunn che è il regista di Guardiani della Galassia dell'ultimo The Suicide Squad e che a un certo punto qualche anno fa è stato colpito da uno scandalo nato dalla riesumazione di vecchi tweet che aveva scritto tipo una decina di anni fa in questi tweet non diceva robe diciamo politicamente controverse più che altro erano battute di cattivo gusto c'è l'esempio nella copertina del post dove faceva la battuta su una persona che aveva subito violenze sessuali cioè non una persona un'ipotetica persona che ha subito violenze sessuali ci scherzava sopra volendo anche un po' diminuendo la cosa poi c'è da dire che al tempo James Gunn lavorava per la Troma che è questa casa di produzione indipendente che fa film molto politicamente scorretti molto provocatori proprio demenziali con comicità molto spinta quindi era un po' il suo personaggio esatto poi con gli anni si è ammorbidito e adesso non fa più questo tipo di comicità però c'è stata proprio una una movimentazione un movimento su su twitter su internet da parte di un gruppo di sostenitori di trump che se la sono presa con lui hanno riesumato apposta questi tweet perché James Gunn sostanzialmente è sempre stato un antitrampiano uno che sosteneva cose contro trump e quindi hanno fatto un po' questa sorta di vendetta che poi in america è molto sentita lo schieramento politico democratico repubblicano lì hanno il sistema a due partiti che inevitabilmente polarizza qualsiasi questione cioè vengono messe alla vengono terminate amicizie per questioni sei a favore dei democratici sei a favore dei repubblicani la cosa assurda è che da questa che in questo contesto il pubblico era un po' diciamo aveva un po' le idee confuse perché c'erano da una parte quelli appunto di sinistra che tendevano a difenderlo perché lui era contro trump ma allo stesso tempo c'erano quelli che se la prendevano con lui perché faceva battute politicamente scorrette a destra c'erano quelli che se la prendevano con lui perché era contro trump ma lo difendevano perché vabbè dai che battute saranno e quindi c'è stata questa come dire dissonanza cognitiva su internet che però riguardava principalmente delle nicchie perché poi james gunn alla fine non è particolarmente conosciuto come regista e la vicina non ha fatto in realtà tutto questo scalpore se non nei primi giorni non ha intaccato la sua carriera nonostante ciò la disney al tempo lo licenziò lo tolse dal progetto guardiani della grazia si che mi raccontavi fuori onno e vabbè poi in quel periodo venne anche preso dalla warner perché ne approfittò per prendersi gun a fare alcuni contratti in esclusiva poi venne riassunto nuovamente da disney facendo sostanzialmente finta di nulla come se niente fosse successo perché probabilmente si sono resi conto che loro se si avevano ingigantito la questione avevano paura di una ripercussione di immagine che poi di fatto non c'è mai stata ma è proprio una questione secondo me lì subentra la questione di business cioè io per salvaguardare la mia attività non guardo in faccia a nessuno e piuttosto che perdere i ricavi o insomma per avere delle ripercussioni negative piuttosto ti allontano intanto tutti sono utili nessuno è indispensabile quindi tolto gun se ne fa un altro tolto un gun se ne fa un altro che era sempre tolto gun si rifa però qui non lo so questo è un altro tema insomma un po' importante però perché a un certo punto l'etica comunque nel business al di là cioè la domanda è potrebbe essere anzi l'etica no non lo voglio non lo so neanche formulare ho in mente ho in testa un flusso di pensieri ma devo cercare di casellarlo loro fanno cioè secondo te secondo te è corretto guardare cioè fregarsene di tutto a prescindere dire non me ne frega se intacca il mio business io ti mando fuori oppure è giusto che l'azienda tra virgolette lotti per non far prevalere il delirio comune che può nascere davanti a una cosa di questo tipo perché poi questa cosa questo problema nasce perché per il timore che sui social si espanda il delirio comune collettivo e quindi siccome so già come va a finire io mi paro diciamo mi prendo delle precauzioni e lo allontano allora questo è un discorso abbastanza complesso mi mettere in crisi di Jacopino allora pur anche a cosso di magari sembrare un capitalista o chissà che altro io ti dico secondo me è legittimo per un'azienda nel momento in cui ha tutelare il suo interesse sì nel senso sta avendo a che fare con una persona problematica che può effettivamente causare un vero e proprio danno d'immagine decidere di rompere i rapporti con questa persona allontanarlo e sostanzialmente cercare di ripulirsi il più possibile l'immagine perché comunque un'azienda alla fine deve vendere che ci piaccia o no e gli attori i registi per quanto magari possa sembrare controversa come affermazione non sono così assolutamente insostituibili dipende poi ovviamente da cosa si sta parlando se si parla ovviamente di un film autoriale di un un'attore ovviamente che ci mette tutto se stesso in quel film ovviamente lui è insostituibile ma se si parla ad esempio di Johnny Depp come Grindelwald in una saga da milioni di di dollari sterling in realtà perché miliardi anzi che appunto è un attore che interpreta un ruolo mi spiace dirlo ma è rimpiazzabile sei un po' il dipendente della della casa di produzione si torna un po' diciamo al concetto vecchio dell'artista vero e proprio il regista gli attori sono solo dei mestieranti che vengono assunti che poi è in realtà cioè di base è così solo che siccome negli ultimi diciamo anni Hollywood ha spostato la vendita dei prodotti ci ha legato molto la vendita dei prodotti con l'immagine degli attori automaticamente se tu hai creato questo link ti sei un po' legato le mani perché se non hai quello non puoi vendere cioè è stato è successo un sacco di volte che comunque un attore o un regista particolarmente controverso per una cosa molto grave che ha commesso poi ha scoraggiato molti a guardare un suo nuovo film o a recuperare vecchie opere che aveva fatto questo crea un danno economico di fatto all'azienda c'è però da guardare caso è giusto è giusto che cioè tu come tu come fruitore di arte cioè ti rinunceresti a guardare il prodotto artistico di qualcuno perché quell'artista si è comportato male allora è un discorso che abbiamo trattato me ne vado me ne vado è un discorso che abbiamo trattato anche nella una recente puntata di Radioteca con Selene perché abbiamo parlato della questione di J.K. Rowling dei suoi tweet un po' transfobici eccetera ecco è complesso perché in quella live io ho sostenuto che secondo me non ha senso smettere di acquistare i libri di Harry Potter o di acquistare roba di Harry Potter per sabotare la Rowling perché di fatto c'è da dividere la la sfera diciamo l'artista dalla sua opera è un discorso che però è pieno di sfumature secondo me perché in quel caso stiamo parlando di un'autrice che ha scritto un libro quindi l'autrice non è al centro dell'opera al centro dell'opera c'è appunto l'opera i suoi personaggi le sue storie che cioè quindi di fatto Harry Potter a prescindere dalla vita di esatto si può dire quasi in maniera poetica che Harry Potter Hermione Granger Albus Silente vivano di una vita propria slegata dall'autore quindi io non sto tanto lì premiando l'autrice ma l'opera e i suoi personaggi poi comunque nel momento in cui io apprezzo l'opera anche se dietro ci sta una persona che io non apprezzo è comunque giusto che secondo me che io gli dia dei soldi perché comunque quello che ha creato a me intrattiene a me piace e ne sento il bisogno di fruirne nel caso degli attori nel caso in cui la persona in quanto tale inizia a diventare sempre più centrale nell'opera lì il discorso inizia a cambiare ma più che altro per un discorso di percezione personale perché mi è capitato a volte sto iniziando a venire l'argomento è dedicato e quindi giustamente c'è un momento di schiarire la voce scusate per la tosse stavo dicendo che ti è capitato mi è capitato anche inconsciamente anche involontariamente di non essere proprio felicissimo di guardare magari un film sapendo che lì ci fosse quel particolare attore cioè mi è capitato ad esempio con una pallottola spuntata che sono dei film bellissimi però c'è uno dei personaggi comprimari del protagonista è O.J. Simpson con tutto quello che ha commesso per chi non lo sapesse O.J. Simpson è un grande giocatore di di football americano che è stato accusato più volte per l'omicidio della moglie dell'amante della moglie nel processo penale che è molto controverso c'è anche una serie dedicata in American Crime Story in realtà è stato assolto però comunque tutte le dinamiche dietro al processo fanno credere che ci sia stata un po' una manipolazione da parte del del team del dream team di di avvocati di di O.J. Simpson infatti poi O.J. Simpson perse il processo civile e dovette risarcire milioni e milioni alle famiglie della moglie o credo ex moglie vabbè di lei e l'amante questa è un'altra storia diciamo che comunque non ho per quanto ovviamente non si sa la verità assoluta non mi è rimasta una buona immagine una buona idea di questo personaggio quindi quando rivedo il suo personaggio all'interno di una pollotto la spuntata per quanto non sia al centro un po' mi dà fastidio averlo di ridere magari a delle cose che dice o che fa sapendo che molto probabilmente non è esattamente una persona molto simpatica con cui avere a che fare forse è vero ho capito quello che dici perché secondo me nel perché l'attore è dentro nell'opera mentre una scrittrice non è dentro Harry Potter cioè non è che c'è come si chiama la scrittrice di Harry Potter J.K. Rowling non è che J.K. Rowling è un personaggio di Harry Potter quindi tu non senti questo questo link così forte invece in un film te lo vedi davanti e quindi automaticamente il tuo cervello linca e dice ma questo qua è quello che ha fatto tra l'altro ti faccio anche un altro esempio però io per esempio cioè se dovessero fare nuovo Pirati dei Caraibi tu non lo vedresti cioè se mettiamo caso ipotesi mettiamo che Johnny viene viene dichiarato colpevole quindi lui effettivamente ha maltrattato Amber e tutto Johnny fa un nuovo film strepitoso tipo Pirati dei Caraibi versione super in caso è impossibile perché ormai ne ha fatti 25 basta tu lo guarderesti io ti dico la verità potrei guardarlo io ti dico non lo guarderei perché probabilmente farà cagare come film ma esatto ho fatto un esempio sbagliato a parte ti dico che personalmente avendo comunque una visione abbastanza super partes rendendomi conto di sapere così poco in realtà di cosa è successo dietro la questione Depp Heard paradossalmente non riesco ad avere un pregiudizio negativo verso Johnny Depp perché mi sembra semplicemente ingiusto dal suo punto di vista sono neutrale nei suoi confronti quindi per ora il mio giudizio morale verso di lui non è ancora intaccato se si dovesse scoprire che effettivamente lui era violento soprattutto era il violento della coppia potrebbe cambiare qualcosa dovremmo riparare dovremmo un'altra puntata ma è anche probabile che non lo rivedremo per moltissimi anni da quel punto al cinema comunque il tema il tema artista opera artistica e separazione secondo me c'è nel senso io sono per la separazione delle due cose allora sono anch'io per la separazione però mi rendo conto cioè comprendo le persone che magari venendo a schermo o Johnny Depp o Amber Heard gli dice sì ma io sto film non voglio guardarlo perché sto qua mi sta sulle palle e dal punto di vista delle aziende è comprensibile che poi tu voglia allontanare una persona che di fatto ti danneggia l'immagine no più che altro perché se no non è utile è successo ad esempio con Armie Hammer che nel più recente Assassin of the Universe sul Nilo che non è mai apparso nei trailer più recenti perché c'è stato lo scandalo sempre accuse di abusi addirittura qui si parla di robe tipo BDSM cannibalismo robe assurde la madonna sì no nel senso che a quanto pare questo sembrerebbe avere dei fetish per il consumo di diciamo pezzettini di carne durante i suoi rapporti nulla di troppo illegale da quello che ho capito però comunque oppure è successo con Ezra Miller Ezra Miller che è l'attore di Flash infatti sul discorso di Flash c'è da fare tutto un discorso enorme ma non lo tratteremo oggi nei più recenti film della Warner soprattutto Justice League e di Credence nella saga di Animali Fantastici quindi sempre legata a Harry Potter Ezra Miller negli ultimi mesi ma in realtà anche tipo nelle ultime due settimane ha commesso una serie di robe perché qualche mese fa era in questo locale e c'era una una oddio non mi ricordo se era un locale vabbè era da qualche parte credo forse in un ristorante c'era a un certo punto una una sua fan che è venuta a chiedergli l'autografo lui non so perché gli è preso il matto sta qua forse era un po' un po' diciamo insistente eccetera questa l'ha ferrata per il collo e l'hanno dovuto fermare l'hanno dovuto allontanare eccetera un paio di settimane fa circa invece è successa un'altra roba perché era in un locale all'Hawaii a un certo punto c'era sta qua che è salita sul palco del karaoke a cantare probabilmente non gli piaceva come cantava è andato a prenderla a male parole eccetera c'era un tipo un giocatore di freccette che ha cercato di difenderla e Ezra Miller si è messa a picchiarlo pure poi è stato è stato arrestato messo in custodia cautelare e una coppia di anziani mi pare che lo stava ospitando lì all'Hawaii ha pagato la coazione e l'ha liberato poche ore dopo questo qua si è presentato nella camera di questi due ha minacciato gli ha minacciati per rubargli il portafoglio si è messo a insultare pesantemente la moglie della coppia essi qua hanno chiesto poi un'ordinanza restrittiva verso Ezra Miller io direi che con questo episodio possiamo chiudere la puntata del cineforum di oggi non possiamo perché c'è l'ultimo episodio che ha commesso pochi giorni fa questi ultimi tre episodi sono successi nell'arco di tipo due settimane sempre all'Hawaii era una festa di qualcuno in un giardino eccetera a un certo punto se l'è preso con una ragazza a cui ha tirato una sedia addosso ma veramente non so cosa è successo esattamente però è partito sto ditiggio sta qua tra l'altro è emblematico che tutti gli screzzi partano nei confronti di una ragazza o di una donna quindi avrà qualche problema con la figura femminile senza stare a psicanalizzare troppo e io all'idea di vedere il nuovo Animali Fantastici dove c'è anche questo Credence a parte che già di base non ci sono delle delle recensioni fantastiche su questo film ma l'idea di vedermi sto qua a schermo che si piglia i soldi chissà quanti milioni per interpretare un personaggio e poi so che tipo di persona è è solamente un po' mi cade un po' che mi chiasca secondo me perché lui perché è sostituibile non so come dire a parte che il suo personaggio non è neanche sto gran personaggione fondamentale ma infatti se non ho capito male perché non l'ho ancora visto sto film ma dovrebbe finire il suo ruolo praticamente con questo nuovo capitolo comunque signori il tema è molto delicato e noi non eravamo qua per dare una risposta definitiva ma solo per porre domande e incitare voi spettatori a riflettere e a non prendere tutto per tutto quello che vi viene snocciolato addosso così come viene ma avere condizioni di causa e razziocinio esatto e come detto se poi effettivamente come me o come altri vi sentite di magari non voler appoggiare troppo un attore un artista non c'è nulla di male cercate comunque di essere razionali in quello che fate non fatevi troppo prendere dalle emozioni capire quando magari un giudizio che avete verso un personaggio pubblico possa essere giustificato magari dettato un po' da un pregiudizio sia positivo che negativo o dal delirio dei media che c'è in giro sì vabbè poi ne dicono ogni volta i giornali detto questo noi direi che per oggi abbiamo finito e ci rivediamo settimana prossima con questa volta per davvero non c'è mai stato nessun post cancellato dopo quattro minuti oggi abbiamo avuto un momento di defiance è stato un momento di defiance ma oggi è giusta la puntata di oggi settimana prossima ci vediamo con Fellini otto e mezzo e Mastroianni ovviamente insieme insieme a noi sì proprio ospite proprio ospite l'avremo qua no non c'è non c'è poverino poi c'è l'anima su e niente avremo il suo spirito che ci avevamo il suo spirito lui lo spirito di Mastroianni lo spirito di Fellini che veglieranno su di noi per la prossima puntata giovedì prossimo 15.30 as usual e vi salutiamo a settimana prossima ciao ciao